In questo video non possiamo né camminare né saltare Ma devo costruire una casa Quindi allora prima di tutto però Diciamo che adesso posso camminare Però solo dopo quando mi suonerà un timer Durante questo video Io potrò diciamo camminare Allora però signor villager si deve spostare immediatamente E devo costruire una casa E costruisco la casa classica che io so costruire Ok per ora però posso camminare Posso camminare ok E tutto quanto cioè mamma mia io sto facendo pure un casino Con queste erbacce schifose ma Danno davvero davvero tanto fastidio Allora io la casa ho pensato di Eccoci ho già sbagliato Porca miseria ho già sbagliato Scusate era solo una prova adesso però Eh ok perfetto Allora Così poi così Guardate che difficilissimo Poi così poi così Porca miseria poi 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 così Ok poi così Molto bene allora Sto già sclerando Porca miseria Allora Cerchiamo di mantenere la calma Perché poi dopo qua Spacco tutto Eh Allora Così così ci sta Perfetto così Beh poi questo video è molto così così Vedrete È bellissimo questo video però Porca miseria Cioè secondo me è una sfida Degna di essere chiamata sfida No perché Non posso assolutamente Camminare Ed è una cosa veramente frustrante In effetti perché Cioè nel senso Non posso né saltare né camminare Cioè che caspita Però Però abbiamo già Costruito l'entrata Eh voi Duniziani cosa dite Allora Strizza la pizza Già hai stancato Cioè già hai rotto le scatole Fatelo dire Strizza la pizza Non va bene così Allora strizza la pizza Perché mi ha detto che Faccio schifo e che non so giocare Per l'ennesima volta no Strizza la pizza Non va bene così Allora se tu vuoi Essere mio amico Allora devi comportarti bene Altrimenti No Altrimenti non ci siamo proprio Io già sto sbagliando tutto vero Perfetto Molto bene Mettiamo queste cose qua Molto belle Molto belle Che sarebbero le stone bricks Secondo me potrà venire Anche una casa abbastanza carina Secondo me Non so Fatemi sapere Poi dopo se vi piacerà questa casa Comunque fra poco Dovrebbe Dovrebbe suonare il timer E non manca molto Mio dio Ah già penso Già sto iniziando a pensare A quanta difficoltà ci sarà In questo video Nel non poter nemmeno camminare Ma scusate Prima ho saltato Ho saltato vero Brutto schifoso Io Che ho saltato Dunisiani Non va bene Non va bene Dovete scrivermi nei commenti Una Una punizione che devo fare Altrimenti non va bene Cioè Ho saltato Ho saltato Vi chiedo scusa Perché Cioè veramente Così Faccio schifo E veramente Chiedo scusa A tutti i dunisiani Presenti su questo canale Chiedo davvero scusa Perché non è possibile Allora più o meno Da questa parte Si va in questo modo Circa Poi dopo così Mi devo ricordare Perché se non mi ricordo Io salto E vabbè Allora che caspita di sfida è Scusate Eh Dite Scrivetemelo nei commenti Ricordatemi Dunis non saltare Perché se no Io continuo a saltare Non va bene Strizza la pizza Fai Allora Mi ha detto di nuovo Strizza Madonna Strizza la pizza Strizza la pizza Non puoi strizzare la pizza Non puoi dirmi che faccio schifo Perché sono bellissimo E bravissimo pure Allora Eh Io ve l'ho detto E me la prendo con strizza la pizza Porca miseria No Dunisiani Dunisiani ci siamo Porca miseria Eh Basta Basta Timer schifoso Ci siamo Ci siamo Mannaggia Adesso da ora in poi Non potremo nemmeno camminare Quindi Sarà un casino totale Allora Devo Devo mettermi la barca qua Ok E costruire così Praticamente Ok Oh mio dio Come Come che facciamo Cioè come Come si può Come si può fare Una cosa di questo tipo Vabbè Ce la facciamo no Nel senso Noi siamo bravissimi Ce la facciamo E come E come se ce la facciamo Mi devo solamente Allontanare Aspettate Perché qua Veramente Qua Porca miseria C'è di una difficoltà Ma di una difficoltizia Veramente Troppo Difficoltosa Ora Strizza la pizza Fai schifo Strizza la pizza Ultima volta che Urlo Alle tue spalle Nel senso Perché io Dovete sapere che urlo spesso Alle spalle Di strizza la pizza Così lo spavento Allora se Stai zitto Allora non urlo più Alle tue spalle Però Devi stare zitto Perché sennò poi dopo Io non è che non posso urlare Porca miseria Immaginate io che urlo Strizza la pizza Poi lui mi dà gli schiaffi Perché è così Fatto così Eh scusate Veneziani Fatto così Strizza la pizza Cosa volete Davvero Fatto così Io sto sudando come Una scrofa Di Gian Giuberto Quello schifoso Quella Quel Quel Demonio Che arriva Dagli Imperi Più Totali Eh Arriva da lì Porca miseria Allora scusate Ma è davvero difficile Questa sfida Ah Non è possibile Mannaggia A tutti Gli strizza la pezzoni No tu stai zitto Tu stai zitto Perché guarda Adesso ti do lo schiaffo Ti do lo schiaffo E ti mando in Africa Ti do lo schiaffo E ti mando in Africa Quindi Non Tu non vuoi essere Mandato in Africa Giusto Mannaggia Io seriamente Madonna Mi sto Sto sclerando Due niziani Non è possibile Cioè Guardate Guardate Non riesco a fare un cavolo Con questa Con questa modalità Mannaggia E poi Io Devo parlare bene Bene Mannaggia A me Ok forza Forza Guardate come cammino Veroce Guardate che scemo Che so Guardate Cioè sembro un cretino Cioè guardatemi Cioè si può essere così stupidi Perché secondo me Non si può Cioè Secondo me Non si può proprio Cioè È proprio Una cosa illegale Assolutamente Immorale Senza alcuna ombra Di dubbio E No Assolutamente No Questa cosa è molto In però È molto alla moda Molto Assolutamente In Però scusate Qua io non riesco a fare le cose Qua c'è come caspita si fa Dai per favore È tutto un casino Dunis si sta arrabbiando Quando Dunis si arrabbia Diventa molto brutto Allora Perché Non si gira questa barca Basta Basta La barca deve essere punita Tu brutta barca Adesso ti Madonna Madonna No vieni qua Vieni qua Vabbè Dai per pochino Posso camminare no Poi si mettono anche le torce Porca miseria Ah Ok Stiamo Restiamo calmi Restiamo Restiamo calmi Queste torce mi stanno dando Molto fastidio Dunisiani Voi Secondo me a voi piacciono Vedermi Vedermi tutto quanto Che urlono A voi piace Vedere questa cosa Ma a me no A Dunis non piace Porca miseria Allora Eh Però posso fare una cosa Di questo tipo Posso metterla qua Posso mettere qua la barca Poi posso Posso fare Così Arrivare da questa parte Scendere Ma porca miseria No Allora Arrivare da questa parte Scendere Dai E' tutta colpa Di strizzare la pizza Ecco scendere Fare così Perfetto Ci stiamo arrivando Ci stiamo arrivando No però in realtà Non devo nemmeno saltare Secondo me Non devo Non devo saltare Non devo Perfetto Perfetto Togliamo Togliamo sta parte E Porca miseria Dai E' un casino Dunisiani E' un casino Come caspita si fa Cioè veramente Cioè E Ah E' colpa di strizzare E' stato lui E' stato lui Voi vi chiedete Ma sarà stato strizzare la pizza Dare il consiglio a Dunis Si E' stato strizzare la pizza E ora però Vedete che sto andando via Perché devo andare a dormire Prima che qualche mob Mi ammazzi Perché io siccome Non posso camminare Cioè guardatemi Uno scemo Uno scemo totale Cioè Come si fa Come si fa Niente Camminiamo Andiamo così con la barchetta Tanto cosa vuoi che sia No Andiamo Si 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 Ma tanto tutto Tutto il tempo del mondo No Dunis Tanto tu c'hai Si Questo video è stato proprio Un'idea stupida Proprio Allora Ah Dispo No Dunisiani 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 Qua c'è qualcuno che Che vuole farmi nervosire Qua c'è qualcuno Che vuole farmi nervosire Come faccio Come faccio a passare Adesso me lo spiegate Come faccio Però io ho i miei metodi Dunis Hai i metodi Del dunisiano Tutto quanto potente Quelli sono i metodi Bellissimi Vabbè Non chiudiamo la porta Chi se ne frega Vado qua Si dormo Per terra Per terra Mamma mia Che bello dormire per terra È proprio Bellissimo No Cioè Bellissimo Allora Qua posso però Provare a fare una cosa Prendo la barca La metto qua Vedete Alla fine È più semplice Con la barca Secondo me Poi faccio così Poi faccio A me fa anche ridere Perché scusate Ma è uno scemo Obiettivamente Quello che fa così È un po' Un pochino stupido Lo è Cioè nel senso Che è che si mette A camminare così Su Minecraft Solo Dunis può Solo a Dunis Possono venire queste idee Poi Tempo che Dai Tempo Eh vabbè Qua devo anche scavare così No Perché altrimenti Qua non si mette la barca Io voglio vedere chi è stato a restare Eh Allora Sì sicuramente Saranno restate molte persone A guardare questo video No Sicuramente Ma sicuramente Cioè se siete arrivati Fino a questo punto del video Scrivete La barca puzza Perché da ora in poi Io odio la barca La barca puzza Nei commenti E io vi do il cuoricino Se siete arrivati fino a questo punto del video Perché siete stati Molto coraggiosi Che è arrivato Ma Ora Può essere anche Che siano arrivati in tanti Perché magari dici Voglio vedere Dunis Che sclera Allora dici Vabbè Il resto qua No E Vediamo il video Oppure magari Ci sono Siamo Siamo rimasti in pochi Poi Dunis Però a volte Dunis Parte questa Questa legge Del non parlare Questa legge del non parlare Dice che Dunis non sa parlare Molto bella Questa legge del non parlare Però io non ho ancora Costruito niente E il video Sta per finire qua Ebbè Bello No Molto Una cosa molto bella Però Ecco mancano 5 secondi Duniziani E devo dire Che questo video È stato molto Brutto da fare Cioè per voi Sarà stato bellissimo Però per strizzala La pizza Prima di tutto Strizzala pizza Questo strizzala pizza Io Prima o poi Lo troverete In un sarcofago Avete presente Uno di quei cosi No Tutto quanto così Scusate Questa è stata La rabbia di Dunis Scrivete no Alla rabbia di Dunis Nei commenti Perché Dunis si arrabbia In modo molto semplice E veritiero Soprattutto Quindi Dunisiani Grazie per aver guardato Questo video Se siete arrivati Fino a questo punto No Voi sapete Cosa dovete scrivere Se siete arrivati Fino a quel punto Del video E che Chi ci è arrivato Solo può scrivere Quindi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Ne porterò degli altri E io lo posso vedere Se vi è piaciuto Eh Vabbè Tanto la challenge È finita Chi se ne frega Posso anche camminare Questa Questa casa La continuerò Magari Off camera E io lo posso vedere Se vi è piaciuto Questo video Quindi se vi è piaciuto Ve lo riporto Altrimenti Non ve lo porto Mai più Quindi grazie Per aver guardato Questo video Dunisiani È stato molto bello Avervi qua con me E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao